Prima Viareggio Che è là, che è là, che viene dal mare Evviva, evviva il carneval! Buonasera e benvenuti all'ottava puntata di Conto alla Rovescia Come succedeva una volta con le partite della Rai Oggi c'è lo sciopero degli operatori Quindi noi abbiamo una telecamera fissa soltanto laggiù in fondo Lontanissima e noi dobbiamo fare tutto da soli Guardando l'unica telecamera a disposizione Tutto così sarà, tutto così Una puntata meravigliosa Meravigliosa Tutto è buono, tutto è bello Bel Paese, volo via Maschera isolata di Matteo Rasciti Il tema è l'emigrazione Un fenomeno che vede oggi Giovani sognitori, laureati, specializzati O semplicemente uomini e donne Costretti ad abbandonare l'Italia In cerca di un futuro dignitoso In cui trovare spazi e opportunità Che qui mancano Una fuga dal Bel Paese che non soddisfa più Anche per la scarsa qualità di vita E classe politica inadeguata C'è un anniversario, caro Maffei Di chi? Sì, un anniversario importante Sono vent'anni dalla prima pedana aggregativa Dei Burlamatti E allora andiamo a scoprire il carro Ride Viareggio Prendono in prestito Il titolo di una celebre canzone Del carnevale di Viareggio I Burlamatti Che propongono Ride Viareggio Una pedana rievocativa Perché si rifà Alla prima costruzione che il gruppo Presentò venti anni fa Al proprio debutto Al centro un pagliaccio coloratissimo Sotto un arcobaleno E un sole splendente Intorno bocche sorridenti Come lo spirito del carnevale Ti mangiasti alla morina Di Tordelli una dozzina Si lamenta poverina O chi mai li pagherà Evviva, evviva Il carnevale Evviva, evviva Il carnevale Ma un rimedio forse c'è Prendi la maschera Vieni a Viareggio Mascherata in gruppo di Giacomo Marzili Viareggio è la capitale del carnevale E allora perché non affidare questo messaggio Proprio alle maschere Un'allegra invasione Per sorprendere il pubblico Dei corsi mascherati Attraverso un omaggio a Alberto Bonetti Pittore e inventore di Burlamacco La maschera di Viareggio Più bello e più grande che pria Carlo di Alfredo Pardini Che rappresentava l'incendio Che colpì gli hangar In Via Cairoli nel 1960 Ma protagoniste erano le farfalle Farfalle che erano protagoniste Anche in questa costruzione di Antonio D'Ariano Dedicata alle donne Ma farfalle che saranno simbolo di rinascita Sul carro di seconda categoria Freedom Di Priscilla Borri E Antonio Croci Evviva Evviva Il carnevale Per il carro Freedom Priscilla Borri Priscilla Borri E Antonio Croci Hanno scelto un soggetto nuovo Per il carnevale Un personaggio importante Come Emma Bonino Perché questa scelta? Abbiamo scelto di dedicare un carro a Emma Bonino Per tutto l'impegno Che ha sempre manifestato Nei confronti Della valorizzazione Della figura femminile E della valorizzazione dei diritti civili E delle pari opportunità È un politico importante Per l'Italia Per l'Europa Perché tuttora porta avanti queste battaglie E insomma Quello che dice È abbastanza importante Proprio per noi donne E per il valore Che è intrinseco a questo Elementi inseriti nel carro Sono le farfalle Perché questa è scelta? Allora Sì Il carro Parla di un'allegoria Noi pensiamo che appunto Ogni donna debba fare Nella propria cultura Nella propria area Diciamo di interesse Una vera e propria rivoluzione Una vera e propria metamorfosi E prima di tutto individuale Quindi abbiamo pensato Alla farfalla Alla similitudine alla farfalla Perché la farfalla passa Dalla fase di bruco Intento solo a nutrirsi Quindi limitato a bisogni primari Alla fase di crisalide E poi fino alla libera farfalla E quindi ecco Avevamo visto bene Questo abbinamento Perché ovviamente È una manifestazione popolare Che deve parlare A grandi e a piccoli Deve avere anche del fantastico Deve avere anche del colore Deve avere E quindi niente Abbiamo voluto un po' idealizzare Questa figura di Emma Bonino Cioè estracolarla Dal discorso partitico Per intercalarla invece In un aspetto più umano E più di valori Che comunque Dalle sue parole Emergano Io ho visto diversi video Su Youtube E sono Abbastanza entusiasta Di quello che viene detto Riguardo alla tolleranza Verso tutti quanti Tutte le diversità In particolare Verso la donna Antonio Croci che cosa stai realizzando Sto realizzando La gonna di Emma Bonino Praticamente È un assemblaggio Di ali di farfalla E ogni ala Avrà un suo movimento Intorno a me Una che vuoi Mi porta a console E il carnevale Sarà Questa sarà E il carnevale Ti guardo e tutto Si prima così Come il piano E viva Mascherati Del carnevale Di Viareggio 2019 I temi proposti Sono Lotta al bullismo E le donne Continua lo sciopero Noi siamo ancora più lontani Sempre con la telecamera fissa Che di lì non si sposta Questa era una puntata La canzone era Le minonne al carnevale Barghetti 83 Fine Siamo stanchi Stanchissimi Perché con la telecamera fissa È pesante Un problema Si va via noi Ciao E c'è grazie E c'è grazie E c'è grazie E c'è grazie E c'è grazie